E' un governo che dice aiuto le partite IVA, in realtà le partite IVA dà una mancia perché sappiamo bene che la pressione fiscale che subiscono determinate realtà imprenditoriali non si può tamponare con provvedimenti così una tantum. Però salta Martini, lei... E' uno Stato biscaziere questo, mi faccio dire una cosa, questo è uno Stato che dice che taglia le tasse ma in realtà che cosa fa? Aumenta le concessionarie e le agenzie per le scommesse del gioco. Aumentando la ludopatia, è una cosa allucinante. Però le tasse molto. 22 mila punti in più, 22 mila punti scommesse in più in Italia e cosa fa questo governo? Dice io aumento i punti dove si può andare a giocare, alcune agenzie, alcuni corner e poi prendo più tasse. Bravo, aumentiamo la possibilità di una malattia sociale gravissima.